Per quanto riguarda il modo di presentarsi della Meloni è come se avesse fatto due campagne elettorali parallele, entrambe importantissime per farla salire al ruolo che ha assunto in questi giorni. Una, la campagna elettorale nei confronti del popolo, nei confronti del quale si accredita come quella che ha fatto un po' di opposizione, che è diversa dai governi tecnici, ha una lunga gavetta che ha rivendicato dai suoi 15 anni nelle scuole e quindi una persona popolare che deve prendere questo suffraggio propriamente democratico. Dall'altra ha fatto un'altra campagna elettorale, devo dire anche abbastanza trasparente, nei confronti di quelli che con semplificazione possiamo chiamare poteri forti, per dire guardate che macchiavellicamente io non sposterò certe cose, cercherò di conservare il più possibile, non voglio fare strappi e quindi sono una persona affidabile. E questa è la chiave del suo delicatissimo successo di questo periodo, in un contesto in cui le altre opposizioni erano troppo deboli e divise e mi porto anche una parte di responsabilità su questo, ma davvero non è stato possibile fare di più, dall'altra i governi che si sono succeduti in appoggio ai governi tecnici avevano consumato tutte le loro cartucce. Credo che sia un fenomeno generale questo della crisi della rappresentanza politica, pensiamo all'Inghilterra, la trust è stata fatta fuori in 45 giorni, meritatamente, quello che le succede è un uomo Goldman Sachs, una specie di Monti o Prodi o… E pure Draghi diciamo, era uno che aveva famigliata. Anche Draghi, sfuggiva il nome, ecco… Mi pare che anche Gianni Letta aveva qualcosa, non so come mai piaceva pure a loro. Vabbè comunque a questi piacevano. E ci sono altri personaggi di questo tipo in giro per l'Europa, ed è carente assolutamente di legittimazione, è proprio una cosa evidente, l'unica sua legittimazione è che ha un patrimonio superiore a quello del re. Ora nel caso della Meloni può rivendicare invece un tipo di gavetta diversa, ma è l'unica cosa che può rivendicare in questo momento, perché poi di fatto programmaticamente non vuole cambiare l'agenda di fondo. Si limiterà a spostare alcune cose. L'Italia rispetterà tutti gli obblighi che vengono dall'Europa, quindi anche i più assurdi, perché la nostra comunità di destino è l'Occidente. Siamo pronti di fatto a stare in prima fila nella guerra contro la Russia di Putin, perché questo è il nostro destino, questa è la nostra dimensione. Ora io non so cosa c'è di molto diverso, a parte un po' l'enfasi, a parte il fatto che è donna, non so qual è l'elemento di discontinuità rispetto a Mario Draghi. Anzi, mi pare se possibile, Pino, persino un peggioramento nell'approccio enfatico. Questo ringraziare le forze armate in maniera così ridondante sembra quasi un segnale che la guerra è imminente. C'è una forte continuità, tanto è vero che la maggioranza Draghi era una maggioranza a cerchi concentrici. C'era quella sui temi economici che consentiva a Fratelli d'Italia di fare la figura della forza dell'opposizione, ma sul tema della guerra era praticamente un fronte unico e quindi c'è una continuità fortissima. La novità più calcata rispetto a qualche anno fa da parte della Meloni è questa continuità sui temi europei. Ha fatto un discorso estremamente democristiano, mi viene da dire, estremamente in linea con quello che avrebbe potuto dire un premier iperprudente della vecchia scuola Dorotea democristiana. Il che mi fa pensare è che lei ha scelto un approccio diverso rispetto alle forze politiche che sono cresciute negli ultimi anni e che sono state tutte consumate dallo scontro con la realtà. Penso a Renzi che cavalcava certi temi, è stato molto ganassa direbbero a Milano e poi è crollato di fronte alle proprie contraddizioni, ai propri limiti. Penso al Movimento 5 Stelle che prometteva una rivoluzione, almeno retoricamente, e poi si è adattato in modo democristiano. Lei si presenta direttamente democristiana, direttamente democristiana in questo momento. Quindi non ha prometto nulla… Ci sono democristiani e democristiane, perché Moro l'hanno fatto fuori proprio perché era poco meloniano. Era magari pacato nei modi, ma molto serio nella sostanza. No, anche se poi fa un riferimento a quel mondo moroteo, perché ha fatto un riferimento a Mattei come qualcosa da recuperare nelle politiche internazionali. Chiaramente questa è una cosa piena di contraddizioni, perché stare nella Nato di oggi significa introdursi interamente in una belligeranza che può arrivare anche a una grande tragedia europea. E su questo mi pare che lei eluda, come un po' faceva l'Andreotti del tirare a campare è meglio che tirare le cuoia. È abile, indubbiamente, è molto abile nel preservare una sua nicchia di azione che sarà comunque molto limitata e sa che non può toccare certi fili, perché chi tocca certi fili muore, almeno metaforicamente e politicamente, nelle condizioni date. Ha fatto una scelta di potere, però in un ambito in cui nulla di questo ha a che fare con il vero sovranismo o con un recupero di una sovranità popolare, di una politica economica autonoma dell'Italia. Quindi sarà qualcosa che navigherà, magari abilmente, ma sarà una navigazione a vista. Lei punta il dito contro chi si è arricchito con il business delle mascherine, dei ventilatori, evitando però di andare sul punto che invece è decisivo, cioè l'obbligo vaccinale, gli effetti avversi, l'utilizzo del cream pass come strumento di controllo sociale. Cioè dice una cosa giusta, però ho l'impressione che l'accompagno con una spiegazione sbagliata che serve a coprire le motivazioni più importanti che vengono con malizia celata. Ecco, questa è l'impressione mia. Cabras, su questo. Ah, su questo voglio spezzare una lancia rispetto a questo punto del discorso della Meloni, perché la novità c'è e risaltava moltissimo nell'aula di oggi dove c'era un solo pirla con la mascherina ed era Speranza. Quindi era qualcosa che rendeva veramente molto efficace il discorso proprio per fatti concludenti. E c'è una discontinuità fortissima rispetto a tutta la retorica dell'ultimo anno e mezzo da parte delle classi dirigenti di governo. Questo dobbiamo riconoscerlo. Chiaramente non si spinge più di tanto rispetto a certi lidi a cui approderemmo noi, perché si porta dentro delle contraddizioni. Certi governatori ad esempio di Fratelli d'Italia, che erano molto dentro la narrazione pandemica ufficiale e hanno preso gravi decisioni sulla pelle di molti cittadini, si sono resi corresponsabili, però è chiaramente un'apertura verso una fase nuova. Lo fa con le contraddizioni di quest'epoca, portandosi dentro figure come il Ministro della Sanità, che certo ha avuto le sue posizioni, però mi pare che politicamente ora si tolga ogni copertura a politiche come quelle che ci sono state in precedenza. Vorrei che ci fosse un atto di coraggio maggiore in direzione ad esempio dell'eliminazione immediata dell'obbligo vaccinale per poter lavorare nelle professioni sanitarie. Ci sono ancora delle ingiustizie che gridano vendetta già ora, ancora ora, nelle corsie degli ospedali e in tanti studi medici. Però forse su questo dovremo incalzare. Ho l'impressione che abbia ascoltato i testi che noi abbiamo pronunciato nelle aule e nelle commissioni alla Camera. Qualche passaggio sembrava un plagio di un discorso che poteva essere mio, di Francesco Forciniti, proprio nella denuncia precisa che avevamo fatto dell'unicità della politica italiana, che è stata la peggiore al mondo nella gestione della pandemia con risultati pessimi anche dal punto di vista strettamente sanitario dei numeri, del numero dei morti, eccetera, oltre che delle vessazioni inenarrabili che sono state perpetrate a danno dei cittadini. Quindi sarei per fare una piccola apertura di credito alla quale devono seguire però dei fatti immediati e la cosa su cui andrà incalzata è la questione delle professioni sanitarie. Hanno parlato di Covid in controtendenza. Cioè uno solo ha parlato dicendo parti di verità, Giordano, e gli avete chiuso il canale. Però non vedo girotondi stavolta, Pino, come ai tempi dell'editto burgo. A me Giordano non mi sta affatto simpatico sul piano personale perché ci ha oscurato durante la campagna elettorale in maniera feroce. Italia Sonale Popolare non l'ha mai citata. Ha puntato tutto su Paragone e sul centrodestra. Ora è stato ricompensato così. Però non si può negare che fuori dal coro era una trasmissione che faceva parlare gente che ha denunciato delle cose che altri non avevano il coraggio di denunciare. Qualche girotondo lo faranno secondo te per lui, non penso. No, l'ambiente che faceva i girotondi ha una concezione dei diritti civili molto settoriale, solo quelli del set vicino alle loro sensibilità, il che rende assolutamente contraddittoria una battaglia per i diritti se non abbraccia tutti quanti e se non contempla opinioni diverse. E quindi vedo sì una solitudine anche di Giordano in questo momento perché non c'è una forte reazione. Come alternativa abbiamo fatto delle dichiarazioni in favore del ripristino di questa trasmissione. Sembra un cattivo segnale di una nuova fase in cui non vogliono lasciare neanche quelle piccole trasmissioni di sfogo. Questo pone un problema generale della qualità dell'informazione in Italia, al quale prima o poi bisognerà porre il rimedio con un movimento che si costruisca una sua produzione audiovisiva di qualità autonoma, perché veramente è un ambiente molto asfittico quello a cui assistiamo.